Presieduto da Alessandro Fucito, il Consiglio Comunale si è aperto questa mattina con le commemorazioni del fondatore dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Gerardo Marotta, del lavoratore di Pozzuoli, Raffaele Vettorino, scomparso dopo un incidente mentre manifestava in corteo il 2 febbraio scorso, l'editore Pietro Golia della casa editrice controcorrente e l'ex consigliere comunale Giuseppe Coppola. Nella seduta odierna il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità due ordini del giorno sugli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale per cui la Napoli Servizi ha inviato ai cittadini la richiesta di pagamento degli arretrati. Il testo approvato dall'Aula scaturisce da un emendamento del consigliere di Dema Claudio Cecere e prevede in particolare la decisione di escludere dal pagamento degli arretrati i cittadini che abitano in immobili abusivi ed hanno già versato le oblazioni per le sanatorie e l'esenzione del pagamento anche per coloro che hanno già ricevuto la licenza in sanatoria. Bisogna distinguere chi è in buona fede da chi è occupato senza averne diritto, ha sottolineato nel suo intervento il sindaco Luigi De Magistris che ha definito meritoria l'azione messa in campo dal Comune per provare a dare ordine ad una situazione di assoluta incertezza e su cui non sono più ammissibili strumentalizzazioni politiche.